amici di rete 4 vi sarete accorti che la vostra rete preferita sta facendo passi da gigante tutta la stampa ne parte dynasty batte dallas i colossal di rete 4 sensazionale cipria fa cantare i politici un milione al secondo grande successo per pippo baudo il video sarà così firmato rete 4 e potremmo continuare è un grande successo ma siete voi ad averlo deciso e infatti le agenzie specializzate ci dicono che rete 4 raddoppia rispetto ad un anno fa oggi siete molto più del doppio a scegliere ogni giorno i programmi di rete 4 e siete ancora più numerosi nelle grandi serate che rete 4 vi offre questo ci dicono i dati delle ricerche del marzo scorso e i dati di aprile confermano il vostro gradimento e io sono sicuro che a maggio e giugno sarete ancora di più rete 4 è il fenomeno dell'anno mentre le altre televisioni avanzano lentamente rete 4 decolla vertiginosamente con i suoi programmi programmi sensazionali che stanno cambiando la televisione e i film film che nessun'altra televisione avrebbe potuto farvi vedere non un bel film ogni tanto ma un grande film dietro l'altro e non è finita rete 4 ha grandi cose in programma lo sport oltre ai consueti appuntamenti seguirete con noi in contemporanea con l'america la folle corsa di indianapolis il kentucky derby gli incontri di forest hills e non è tutto rete 4 trasmetterà per voi l'ultima ineguagliabile interpretazione di ingrid bergman una donna di nome gold e presto anche guerre stellare nessuno può darvi di più ed è per questo che rete 4 raddoppia insomma oggi in italia una grande rete sta cambiando la televisione naturalmente è rete 4 la televisione naturalmente è rete 5